Un costo complessivo di quasi 300.000 euro da appaltare con procedura negoziata con un invito a 15 ditte specializzate nel settore è il progetto di realizzazione del nuovo ponte a Coccomaro che verrà demolito e ricostruito per ripristinare la circolazione sulla struttura del Po di Volano. Il nuovo ponte, che collega la frazione di Coccomaro di Cona e quella di Coccomaro di Focomorto, sostituirà quindi il vecchio ponte Belli costruito più di 50 anni fa e che in questi ultimi anni ha registrato una intensificazione del traffico verso il nuovo ospedale di Cona. Finalmente ci siamo, nel senso che abbiamo fatto quelle che erano le giuste valutazioni tecniche, nel senso che abbiamo alla fine deciso di fare un ponte nuovo che stiamo selezionando naturalmente le ditte. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori che sono lavori che prevedono anche lo spostamento di tutta una serie di sottoservizi che sono legati al ponte e quindi si partirà naturalmente da lì e poi smonteremo il ponte e ne metteremo uno nuovo come avevamo promesso in tempo per la riapertura dell'anno scolastico. La costruzione del nuovo ponte non basta, deve essere più grande per reggere il traffico a doppio senso di circolazione, sottolinea in un'interpellanza il consigliere di opposizione Francesco Rendine, che chiede lo stop di un progetto non al passo coi tempi. Serve una carreggiata ampia almeno 5 metri anche per ottemperare alla fluidità della circolazione richiamata dal codice della strada, sottolinea il consigliere di Gol. Un suggerimento che probabilmente però non sarà seguito dalla giunta estense. Poi ogni opinione naturalmente è un'opinione legittima. È vero che quel ponte con l'apertura dell'ospedale sta sopportando dei flussi di traffico che sono dei flussi di traffico sicuramente aumentati, però penso che fare un ponte diverso, fare un ponte più grande, andare a consolidare questi flussi di traffico, anzi andarle ad aumentare, sia una cosa che tutto fa tranne che bene agli abitanti delle due frazioni di Chocomaro e non fa neanche bene a quella che è la viabilità della zona, perché poi la svolta lungo la via Comacchio è una svolta assolutamente pericolosa e che quindi non va incentivata, come pure la percorrenza di via della Ginestra è una strada che necessariamente deve sopportare dei flussi di traffico che devono essere quelli legati a un traffico delle frazioni.